Vuoi saperne di più sull'impianto DVMC, cioè ventilazione meccanica controllata? Perché l'installatore ti dice una cosa, il progettista te ne dice un'altra e il tuo amico che l'ha appena fatta te ne dice un'altra ancora. Allora rimani con me per capirne un po' di più. Per domande o chiarimenti puoi trovarmi su samueletrento.it e clicca su mi piace e partiamo! Oggi mi devi scusare se non sono in perfetta forma perché ho il labbro un po' gonfio. Questa mattina a mio figlio alle 5.50 lo stavo prendendo dal letto e mi ha dato una testata, quindi porta pazienza. Ma torniamo a noi. Chi sta costruendo casa o sta ristrutturando pesantemente una esistente mi chiede spesso consigli sulla VMC, cioè sulla ventilazione meccanica controllata. Quel sistema che ti permette di ricambiare l'aria con l'esterno senza dover aprire le finestre raggiungendo così un elevato livello di comfort e allo stesso tempo evitare le muffe. Io però non sono un esperto di VMC, sono specializzato nelle pompe di calore, come ben sai. Ma è anche vero che gli impianti di ultima generazione devono dialogare tra di loro. Quindi ho chiamato i miei amici specialisti dell'aria. Meglio di loro? Non saprei. È come quando ti esce una chiazza, no? Sulla pelle. Non è che vai dal medico di base, che ormai è diventato un passacarte, ma vai dallo specialista. Loro infatti si sono specializzati sugli impianti ad aria. Sono Marco e Claudio e adesso andiamo a conoscerli. Ciao Marco, allora iniziamo con le domande che solitamente mi vengono fatte. La prima, mi piacerebbe fare un impianto di VMC ma la casa è già finita. Posso farlo lo stesso? Ciao Samuele, grazie per questa intervista. Allora, bella domanda. La casa è già abitata, posso fare un impianto lo stesso anche se è già abitata? La risposta è sì. È sì perché soprattutto oggigiorno quando uno fa una ristrutturazione dell'abitazione, in cui inserisce il capotto, le finestre, magari ci fa l'impianto con la pompa di calore, ma una ristrutturazione senza demolire la casa, proprio una riqualificazione. E cosa succede? Che il problema è che viene fuori dopo è la presenza di umidità all'interno dell'ambiente. Quindi sì, un impianto di VMC, di ventilazione meccanica controllata, si può fare in una casa abitata. L'altra domanda che mi viene fatta spesso, possiedo già un impianto di condizionamento canalizzato, posso integrare la ventilazione meccanica mantenendo i vani tecnici a soffitto? Allora sì, l'abbiamo già fatto, esempio classico, mi chiama un cliente e mi dice guarda ho cambiato i vetri, ho fatto il cappotto, problema, muffa, umidità in casa. Però ho già un controsoffitto dove ho l'impianto di condizionamento canalizzato, posso utilizzare il controsoffitto per passare le tubazioni, magari faccio solo una piccola apertura dove va la macchina, oppure la macchina la metto in uno scabuzzino e li faccio tutte le canalizzazioni che passano o si integrano direttamente nell'impianto canalizzato. Certamente è un intervento chiaramente un attimo invasivo, nel senso che 3-4 giorni di lavoro, un po' di lavorette di cartongesso, però si può fare. Ecco la prossima, la mia abitazione è particolare e non vorrei vedere le tubazioni o controsoffitti, come posso fare? Allora, una casa particolare? La casa particolare, ogni casa è particolare, diciamo in linea di massima ci sono due realtà, c'è l'abitazione che ha la possibilità di utilizzare un impianto centralizzato, perché magari ha un bel corridoio centrale che va su tutte le stanze, l'abitazione che magari è su due livelli, oppure è fatta un po' strana, dove l'impianto canalizzato di fatto non si può mettere, allora si va a utilizzare un impianto chiamato impianto decentralizzato o WMC puntuale. Uno ha bisogno di canalizzazioni, l'altro può invece fare stanza per stanza una singola macchina per ogni stanza. Questa invece è la mia domanda preferita. Quanto consuma la WMC? Fa molto rumore? Consuma molto? Allora, i consumi. I consumi di una ventilazione meccanica controllata, canalizzata, possono variare dai 30 W ai 300 W, dipende dalla... non arrivi a un kilowatt come può essere un condizionatore o... fai conto di media puoi essere tra i 70-80 W, parliamo di un'abitazione da 100 metri quadri, potresti essere dai 40-50 W, per darti un'idea. La decentralizzata, cioè il puntuale, è 6 a circa 3-4 W a motorino, quindi davvero stiamo parlando di nulla. Per darti un rapporto, il frigorifero di casa che va H24 365 giorni all'anno, consuma circa 130-150 W, 200 W se il frigorifero è grande. La WMC ti permette di risparmiare col recupero energetico che ha d'inverno e quel recupero che perderesti, parlando proprio solo di energia che va dispersa quando fai il ricambio aria, senza parlare di quando hai problemi che devi pulire, colorare e togliere le macchie di umidità, magari lavare i vestiti, cioè tutti i problemi che ti generano in casa, ti si generano in casa quando hai problemi di salute, c'è chi è allergico, ce n'è un mondo di soldi che vai a tirar fuori. Quindi parliamo solo del consumo energetico, diciamo che consuma meno di un frigorifero, così è una cosa semplice, dopo i dettagli tecnici su qualsiasi scheda tecnica ci sono. Io cerco di parlare un po' semplici, in maniera tale che chiunque possa capire quello che sto dicendo, ma di base non ha niente a che fare con un condizionatore e sono due ventilatori, quindi hanno un consumo davvero, davvero, davvero ridotto. Una domandina poi sulla manutenzione, perché gli impianti devono essere manutentati. Ogni quanto devo pulire i filtri dell'impianto di ventilazione meccanica controllata? Ecco, questa qua è una bella domanda. Come tutti gli impianti, come tutti i macchinari, come tutte le cose che servono per farci stare bene, una cosa fondamentale è la manutenzione dell'impianto. Faccio sempre l'esempio, se compro una Mercedes da 100.000 euro, perché è la più bella macchina del mondo, e poi non li faccio i tagliandi, non li faccio il cambio gomme, non li faccio la pulizia dell'olio, cioè non li faccio tutte quelle che sono le operazioni di manutenzione. Quella macchina lì che ho speso 100.000 euro non mi serve a niente, perché prima o poi o si rompe o si rovina o non dà quello che deve dare. Lo stesso vale nell'impiantistica. L'impianto di WMC, l'obiettivo è cambiare l'aria all'interno della casa meccanicamente prendendo l'aria da fuori. L'aria da fuori passa da un filtro che serve a evitare che mi entri in casa lo sporco, la polvere, i pollini, tutte queste cose. Poi ti manderò delle foto. Io ho visto impianti, praticamente in tre quarti dell'Italia, ma soprattutto al nord, nelle abitazioni che sono in centro, nelle città. Tu vedi che un filtro dopo tre mesi da bianco diventa nero come il carbone. Allora il filtro è quella cosa che con pochissimi soldi e pochissimi minuti ti permette di far sì che il tuo impianto che hai pagato x mila euro ti renda e funzioni innanzitutto per la tua salute, che è la cosa fondamentale. Poi per il benessere abitativo della casa, quindi la riqualificazione della casa. E terza cosa l'impianto, perché se prendiamo un impianto a recupero 90% e i filtri li cambiamo una volta nei due anni, ti assicuro che quel 90% lì diventa il 30% al 45%. Prima cosa. Secondo, ti fai circolare aria sporca all'interno delle tubazioni e all'interno della casa. Quindi i filtri noi consigliamo sempre. Parti ogni due mesi a dargli un'occhiata. La buona norma dice che almeno due volte all'anno devi prenderli, buttarli via e cambiarli. Perché sono filtri, soprattutto sai il filtro F7, che è quello antiparticolato e antipolline. È un filtro molto denso, molto fitto, che non puoi lavarlo. Non è come quello del clima, che lo metti sotto l'acqua e lo lavi. Quello lì riesce a filtrare molte particelle e quindi una volta che è pregno, diciamo, di questa sporcizia, non è lavabile, è da buttare via. Si chiamano filtri F7, che sembrano una specie di cartoncino, sono quelli tutti pieghettati. Quindi quello è da cambiare almeno due volte all'anno. C'è chi lo fa una volta all'anno. L'importante è farlo. Se non vuoi farlo, lo fai fare da un'azienda specializzata, però è fondamentale. Stessa cosa riguarda la WMC puntuale. La WMC puntuale, a differenza della centralizzata, non ha dei filtri di grandissima efficienza, perché sennò non riuscirebbe il ventilatore a muovere l'aria che deve muovere. Però anche quelli sono comunque importanti e vanno puliti e manutentati. Anche quelli, io dico sempre, ogni due mesi dagli un'occhiata, se puoi, è un'operazione che ci metti 5 minuti. Se no, fallo due volte all'anno, una volta all'anno, ma fallo. Quindi ci sono già dei recuperatori che hanno già una segnalazione filtri a fasce orarie, tipo ogni tre mesi inizia a suonare una spia che ti ricorda che c'è da fare questa manutenzione. Nuo in linea di massima, come tutti gli impianti, il filtro va pulito. Due volte all'anno, una volta all'anno, proprio in estremis, ma va fatto. Ok, grazie Marco. E quindi vado con l'ultima domanda. Ma conviene l'impianto centralizzato oppure di tipo puntuale, cioè decentralizzato? Allora, parliamo della WMC centralizzata o canalizzata. La WMC canalizzata è innanzitutto il non plus ultra a livello di funzionamento di impianto. I pregi sono la silenziosità, la funzionalità, perché io riesco a fare tutte le stanze dell'abitazione contemporaneamente, la possibilità di gestione, la possibilità di integrazione, la possibilità di inserire sonde di un certo tipo, di controllare le accensioni e spegnimenti, di metterla in domotica. Cioè hai mille possibilità e a tutti gli effetti è quella che rende effettivamente molto più di quell'altra. L'altra, la decentralizzata o la puntuale, quando è che viene utilizzata? Almeno da parte nostra viene utilizzata quando non si può assolutamente mettere la centralizzata. I suoi pregi sono chiaramente che posso decidere di fare solo una stanza o solo due stanze. È di facile manutenzione anche da parte dell'utente, perché di fatto è un buco nel muro dove io vado togliendo la mascherina del ventilatore, vado a togliere i filtri, posso pulire il tubo, i filtri, tutto e lo può fare l'utente tranquillamente. Cosa che invece nella centralizzata, a parte i filtri che può e deve pulire il cliente, dopo 4-5 anni, 6, dipende dall'ambiente in cui è, una controllata anche alle tubazioni sarebbe da fare, perché è un impianto che funziona quasi H24 per 7-8-9 mesi all'anno, una micropolvere c'è sempre a chi circola. Nella WMC decentralizzata lo puoi fare, quindi ha un dispositivo che puoi, tra virgolette, mantenerlo pulito. La parte negativa che spesso diventa un problema è il fatto che innanzitutto hai un foro da fare nel muro che è 160, sono 16 centimetri. Tante volte fare una cosa così su una strada magari trafficata o in ambienti un po' particolari non è il massimo, perché comunque ti genera rumore, ci genera un po' di cose. La filtrazione che si può ottenere con un impianto canalizzato, centralizzato, è 10 volte migliore rispetto a un impianto decentralizzato. Consumi elettrici nel decentralizzato, cioè proprio nel puntuale, quello che in ogni stanza le metti la bocchettina, hai dei consumi tipo di 2,5 W, 4 W a macchina, cosa che nell'altro impianto è un po' maggiore, però non di tanto. Ok, quindi per noi l'importante è risolvere il problema al cliente, quindi che sia uno o l'altro in base alla situazione che si va a trovare nell'abitazione si sceglie. Di base, proprio di massima, io ti dico che per me la canalizzata è 10 a 0, però abbiamo risolto tanti problemi dove non potevano fare opere di cartongesso, non potevano utilizzare gli spazi dell'abitazione e comunque abbiamo risolto il problema, comunque il cliente è soddisfatto e comunque funziona. Ripeto sempre, dipende perché ogni impianto va studiato, non c'è lo standard che va bene per tutti. Io, poiché non vendo un prodotto, ti dico se lì ci va bene questo, perché non metterci questo, è inutile fissarsi su una cosa. È meglio il canalizzato perché lavora su tutta l'abitazione e fa un bel lavoro e silenzioso così, però anche il puntuale ha le sue caratteristiche positive e può risolvere tantissimi problemi. L'importante è o uno o l'altro, l'importante è farlo soprattutto quando si ha capotti, doppi vetri e ristrutturazioni o comunque riqualificazioni, oppure uno ha 10 animali in casa, le piante, cioè sono tutte quelle realtà dove l'umidità la fa da padrone e crea delle grosse problematiche. Ok? Grazie Marco come sempre per la tua disponibilità e ci sentiamo presto. Allora Samuele, spero di aver risposto al meglio a tutte le domande che mi hai fatto. Se hai ancora qualche domanda, qualcosa, magari ci sentiamo. Un saluto a tutti gli amici che seguono il video e seguono Samuele che è il numero uno per quello che è l'impiantistica e le pompe di calore professionali. Ciao da Marco, da anche il mio socio Claudio e GMC Impianti Specialisti dell'Area Verona e ci sentiamo alla prossima. Ciao! E se non vuoi perderti i prossimi video e sapere quando sarò in diretta su YouTube, clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella al fianco. Grazie a tutti i nostri amici.